buonasera a tutti dunque perché fare un video a commento di una chiusura piatta a milano meno 0,17 per cento a 27.197 punti e una seduta piatta in tutta europa e per quello che si sta vedendo al momento anche sugli indici americani beh perché in buona sostanza c'è da registrare il sentiment attuale che io penso sia quello che poi è importante capire che è quello che ci spinge poi ogni mattina ad individuare i livelli di supporto e di resistenza dei principali indici per farci un po il film della giornata e quindi avere maggior successo quando andiamo a fare le nostre operazioni quindi conoscere bene il territorio diciamo così se non siete a video tutti i giorni tutto il giorno questo sentiment difficilmente ce l'avete per cui non basta guardare un grafico e capire un po quello che a mio modo di vedere il mercato sta facendo in questo momento quello che ha fatto oggi milano e ve lo spiego con una metafora sperando anche di strapparvi un sorriso nel caso in cui la giornata non sia andata sui mercati come speravate vi faccio vedere un grafico 5 minuti delle ultime due sedute perché le ultime due perché innanzitutto partiamo dal minimo fatto registrare oggi che è inferiore al minimo di ieri e qui è presto fatta la cosa a mio modo di vedere il mercato attuale non sa bene che piega a prendere per cui si è disposti a comprare ma sempre a livelli un pochettino più bassi per mantenere un certo margine e a vendere sempre un po prima quindi a distanza di sicurezza da quelli che potrebbero essere possibili resistenze dei 27005 ormai lo sappiamo è conclamata ma ieri abbiamo visto ad esempio una resistenza già prima sui 27 450 oggi ci siamo spinti sui 27 350 quindi chi compra lo fa sempre con un certo margine al ribasso e poi molle il colpo in intra dei su rialzi sempre mantenendosi a distanza di sicurezza stamattina siamo partiti così in effetti quindi sotto i mini di ieri piccolo spoiler questo 27 098 era il livello che questa mattina abbiamo individuato per il supporto giornaliero poi comunque i livelli li andiamo a vedere tutti nel concreto e ci siamo fermati in area 27.115 quindi praticamente praticamente lì la seduta di milano me la sono vista così immaginate di essere tornati i ragazzini sabato sera uscite andate a ballare sapete che avete il coprifuoco alle tre cascassi il mondo dovete essere a casa e clamorosamente arrivate lunghi arrivate le tre e mezza cosa fate l'unica cosa da fare per non farvi sgamare entrare in casa salire le scale andare dritti a letto non facendo rumore quindi come dei ninja e sperare che tutto vada bene milano è iniziata così entrati subito salite le scale portati praticamente all'ultimo gradino quello che vi separa dal pianerotto dove sta la vostra camera da letto quando sembra che la cosa sia fatta e tutto va per il meglio ecco che sull'ultimo gradino inciampate e subito rotolate verso il basso vi riportate praticamente da dove siete partiti su questa spike mi immagino il tentativo maldestro di attaccarvi all'unico quadro che ha peso per trovare un appiglio ma niente si ritorna giù gran trambusto anche il cane di abbaia che prima era stato zitto vostro padre già incomincia a gridare vuol capire cosa è successo e voi di tutta fretta ripercorrete le scale per riportarvi in camera da letto alla fine non è successo praticamente nulla infatti la chiusura 27.198 in buona sostanza ha lasciato intatte le speranze sia per i rialzi che per chi guarda allo short per un buco quindi di quota 27.000 per uno short milano è rimasta quindi così al mio modo di vedere siamo tutti in attesa di un propellente che dia una spinta e in questo caso il propellente potrebbe essere dato e qui andiamo invece a vedere anche ai livelli di tutti gli altri indici il livello potrebbe essere dato dalle news che arriveranno dall'america spero oggi perché joe biden si sta incontrando con il presidente della camera mccartney per trovare un accordo per trovare una via d'uscita e scongiurare il rischio default per gli stati uniti è un po' difficile sarà difficile che oggi riusciremo a avere una notizia in merito però magari io penso che ai mercati potrebbe bastare non l'ufficialità di aver trovato un accordo ma qualche buona notizia che facci intendere che comunque sia a una soluzione si arriverà andiamo a vedere adesso quindi cosa è successo a milano in europa e cosa sta succedendo negli stati uniti ecco gli attuali livelli come al solito nella grafica i livelli che abbiamo evidenziato noi questa mattina ore 8.05 quindi un'oretta prima dell'apertura dei mercati livelli di supporto e di resistenza per i principali indici per la giornata in corso quelli che pensavamo potessero essere i livelli sensibili e anche oggi direi che ci siamo andati molto molto vicini perché milano 27 mila 110 forse anche con 115 questo potere non so se questo dato è proprio corretto mi pare che il minimo sia 27 115 nostro livello supportivo 27 mila 098 quindi siamo lì 27 mila 3 come resistenza milano ha fatto un massimo 27 mila 367 ma come abbiamo visto prima per buona parte della giornata ci siamo proprio abbattuti lì sui 27 mila e 3 il dax 15 mila 862 il minimo nostro livello 15 mila 910 siamo più o meno lì massimo 15 9 6 8 e noi 15 8 e 40 e chiusura 15 mila 897 punti sp 500 4 mila 114 noi 4 mila 110 il supporto quindi ci siamo 4 mila 135 il massimo 4 mila 130 la resistenza evidenziata per oggi e attualmente siamo sui 4 mila 125 e 40 quindi capite bene più o meno ci siamo dappertutto con i livelli indicati e si testimonia a testimonianza ancora che siamo in un mercato piuttosto corto poco poco movimento oggi è uscito anche qualche dato macro abbiamo iniziato questa notte con la produzione industriale cinese in contrazione ma anche questo dato non ha impattato particolarmente sui listini cinesi la rivelazione dello zev anche questa peggiore del previsto meno 10 e 7 anche questo dato poteva magari influire negativamente sul dax e in realtà non l'ha fatto e poi le vendite dei beni essenziali e le vendite del dettaglio di sé come da attese e anche qui nulla si muove chi invece si è mosso a milano e la cosa non deve stupire nel titolo stm lo andiamo a vedere lo avevamo già segnalato perché pare formare una base e potrebbe anche ripartire oggi ha chiuso in controtendenza anche sui massimi di seduta più 1 e 96 per cento ed è interessante anche perché segue un po il filone degli stati uniti i tech stanno andando bene in america e il nostro tech eccolo qua va a portarsi sul bordo superiore del box evidenziato quindi attenzione nelle prossime sedute se dovesse rompere al rialzo potrebbe fare un po di strada altro titolo e questa volta ancor meglio segnalato in real time questa mattina doverio titolo che è andato incontro a forti vendite nei giorni scorsi con la trimestrale e era abbastanza prevedibile che potesse rimbalzare oggi l'ha fatto veramente in maniera violenta l'abbiamo segnalato come vedete nella grafica questa mattina quando ancora stava più più 3 per cento ha chiuso con una bellissima candela a più 11 e 44 per cento quindi devo dire anche questo titolo molto interessante perché ha fatto registrare anche buoni volumi i top price che vengono dati sono ancora in area 6 euro quindi anche distanti dal livello attuale e penso una buona segnalazione per chi era lì collegato in quel momento con noi in real time per quanto riguarda gli stati uniti attenzione ad esempio ad amazon che ancora un gap da ricoprire in area 114 e 76 oggi lo ha già sfiorato si è fermata due centesimi prima è un titolo che sta andando piuttosto bene anche questo qui un tecnologico trimestrale già uscita e livelli interessanti a seguire come vedete nel messaggio l'altro titolo da monitorare è apple otto sedute in congestione siamo sui 172 20 qui il livello da monitorare 175 perché se è breccato potrebbe portare anche apple in area 180 e aumentare ancora così il divario che ormai c'è perché apple da sola capitalizza più dell'intero indice russell americano davvero un colosso direi che per oggi è tutto grazie lasciate un like se vi è piaciuto il video se vi è lasciato qualcosa uno spunto di riflessione e iscrivetevi al canale grazie alla prossima